Voglio ringraziare di cuore la dottoressa Acquaviva e tutti gli organizzatori di questo convegno di presentazione del progetto, un progetto molto importante, mi dispiace non essere con voi anche per confrontarmi e raccontare quello che stiamo facendo, ma impegni precedenti mi trattengono altrove, però ci tenevo a mandarvi questo saluto e a ringraziarvi per aver portato avanti il progetto in tempi anche molto difficili e complicati come quelli che stiamo vivendo e che abbiamo attraversato nei mesi scorsi, però io credo che voi abbiate davvero centrato il tema, una delle priorità sulle quali dobbiamo e dovremo anche organizzare la nostra agenda politica, i progetti, gli interventi del nostro assessorato, ma anche della regione nel complesso e cioè oggi più che mai abbiamo bisogno di investire per migliorare la qualità della vita e la qualità della vita si migliora con una sana alimentazione investendo anche ovviamente sul benessere motorio, io credo che da una vicenda come quella che appunto ci sta toccando da vicino e che ci sta disorientando e anche danneggiando molto da tanti punti di vista quella del coronavirus, ne usciremo ancora più consapevoli del valore, della sicurezza e della qualità alimentare, ci sarà secondo me maggiore attenzione su questi temi e naturalmente quindi noi dobbiamo anche cogliere questa rinnovata disponibilità per investire su una educazione corretta e responsabile e quindi fare educazione alimentare, interagendo e attivandoci soprattutto sulle ragazze, sui ragazzi, sui più giovani. Educazione alimentare significa quindi una dieta varia che metta al centro anche la valorizzazione dei prodotti del territorio, è una educazione alimentare consapevole e che consenta alle persone anche di conoscere la provenienza dei prodotti e noi da questo punto di vista come Regione Emilia Romagna possiamo giocare una partita importante perché produciamo prodotti di grande qualità e di grande eccellenza, siamo la Regione che ha più prodotti DOP e IGP in tutti i settori dell'intero Paese e siamo anche una Regione che questi prodotti li segue con grande attenzione, li cura e con un sistema anche di controlli molto elevato e ben certificato, poi bisogna educare anche alla stagionalità dei prodotti stessi e fare in modo che le persone quindi conoscano e noi continueremo a impegnarci nei prossimi anni anche su un altro fronte importante che è quello della lotta allo spreco alimentare, porteremo ancora avanti quei progetti come frutta e latte per insegnare, educare i nostri ragazzi e le nostre ragazze ha una corretta alimentazione anche nelle scuole che valorizzi i prodotti del nostro ortofrutto e anche lattiero Caesari e poi naturalmente il biologico, anche su questo dobbiamo continuare a investire moltissimo, siamo la Regione, pensate che ha forse il più alto numero di produzione biologica, il 30% della nostra agricoltura è integrata e biologica, il biologico ha il 15% della superficie agricola, continueremo a sostenerla e anche a farla crescere, così come continueremo a investire nei progetti scolastici che valorizzano il biologico, utilizzando anche fondi nazionali che ci hanno consentito in questi anni di portare e aumentare il biologico nelle scuole, quindi un grande impegno da parte della Regione per l'educazione alimentare, per la sicurezza alimentare e la qualità che vogliamo continuare a portare avanti e vi ringrazio davvero per questo progetto e per gli importanti risultati che avete conseguito.